Signori, benvenuti in questa nuova tier list competitiva per quanto riguarda il mese di gennaio 2024. E no, non siamo come MS20 che pensiamo di essere ancora nel 2023. Ma detto questo, si è tenuto l'Italian Open, questa domenica che è passata, insomma, e adesso possiamo finalmente analizzare un attimino i mazzi, quasi tutti i mazzi che sono discutibili in questo periodo di gioco e vedere quale sarà più avanti rispetto ad altri. Ho aggiornato un attimino la tier list prendendo anche in considerazione i mazzi che avete consigliato voi nel post che vi ho fatto in scheda community, però in quel post c'è un piccolo enorme problema vedo il fatto che molti di voi mi hanno consigliato di inserire mazzi post supporti. E questi supporti arriveranno a febbraio, a marzo o direttamente a maggio quando uscirà Legacy of Destruction. Top! Come potete vedere qua non ci saranno mazzi tipo Red Raptor post supporti, non ci sarà... Hero c'è purtroppo, ma va bene. Ingranaggio antico post supporti Legacy of Destruction. Ragazzi, io ho letteralmente scritto tier list di gennaio 2024 perché dovrei inserirvi dei mazzi che al momento non possono giocare da noi. Così come chi mi ha commentato tier lightsworm post supporti, goti post supporti, c'è veramente ragazzi, è il piacere. Quindi questi sono... questa è la selezione, la selezione di 42 mazzi che ho selezionato per voi. Questi bellissimi 42 deck che andranno a definire la tier list. E da un momento che il T0 non è presente, probabilmente la webcam la vedrete in quell'angolino in alto a destra, che potrebbe anche essere l'angolino definitivo per le tier list, dato che in basso va un attimino a coprire gli altri mazzi. Detto questo però, io direi di incominciare e cominciamo come al solito da Despia. Despia-Bistial, Despia-Chimera. Despia-Bistial è un mazzo tranquillamente rogue, secondo me inferiore rispetto a Despia-Chimera, che potrebbe essere definito un mazzo T2, un mazzo valido assolutamente, però soffre molto le interruzioni molte... rispetto ad altri mazzi, insomma, soffre di più, mettiamola così. Quindi non lo vedo al momento come un T1, però come T2 ci sta. Vi ricordo, specifico per chi vuole ascoltare questa parte, che i T1 e mezzo e T2 e mezzo dal momento che non sono delle tier list ufficiali, non li vado ad inserire. Poi ognuno fa le tier list come cazzo gli pare, io provo ad essere il più realista, realistico possibile e quindi la tier da che mondo è mondo dovrebbe essere T1, T2, rogue for fun, perché è sempre stata così ufficialmente. La tier T1 e mezzo è una tier creata per la gente che non ha le palle di mettere dei mazzi in T2 quando si meriterebbero effettivamente la T2. Detto questo comunque, Centurion. Centurion è un T2 al momento, il mazzo è molto forte, sicuramente però ha letteralmente una line of play al momento. Vedremo in futuro come cambierà, come si modificherà. Il fatto sta che comunque soffre tanta roba, quello è sicuro, è indubbio. Quella line of play soffre pesantemente quelle HT che si giocano al momento, che comunque sono tanti, ci sono mazzi che giocano pure 15 HT in questo momento, quindi è grave la situazione. Darkward. Darkward è un rogue che potenzialmente potrebbe essere un T1 se non ci fosse droll, andrebbe ad effetti cappare a destra a sinistra, però esiste droll e realisticamente, ragazzi, in un torneo di 9 turni potresti beccarti tanti droll dal momento che la gente rigioca anche di main, quindi lo vado a mettere come rogue. Engine Diablestar, engine da assolutamente T1. Al momento i mazzi più forti giocano, i due mazzi più forti giocano tutti e due Diablestar, quindi è assolutamente ingiustificabile mettere Diablestar sotto al T1. Dino! Dino, ragazzi, è un mazzo simpatico che però al momento, secondo me, non può dire troppo la sua. Il problema principale è che Mistosauro è ancora limitato, alla faccia di chi anni fa disse eh, ma Mistosauro limitato non cambia niente perché comunque hai il modo di aggiungertelo, eh, si vede. Semplicemente è un mazzo che ha bisogno di Mistosauro, quindi al momento senza Mistosauro io andrei ad inserirlo come un rogue, giusto perché delle top cut le ha già fatte, insomma ha fatto dei risultati, ecco, mettiamola così, quindi rogue, ma in realtà si meriterebbe il forfan, letta in tutta onestà. Poi abbiamo Drago, Drago che al momento, per come sta venendo giocato, potrebbe essere abbastanza tranquillamente un tier 2, un mazzo con del potenziale, dal momento che comunque German e Italian Open non definiscono il formato, questa tier list è molto basata sui miei pensieri. Secondo me Drago è forte e con il tempo continuerà sempre di più a diventare più forte, soprattutto poi quando usciranno i Tempi Dragon, ma lì sarà un altro discorso. Quindi secondo me, ragazzi, Drago è un ottimo mazzo, semplicemente ha bisogno di tempo per ingranare, anche perché diciamo che esce abbastanza con i buchi dalle ultime banlist. Prossimo, Drytron, mazzo rogue, interessante come mazzo, però non sta reggendo, non so per quale motivazione, cioè in realtà lo so, soffre pesantemente Droll e Shifter, quello è ovvio, e per colpa della presenza, della omnipresenza sia di Droll che di Shifter che il mazzo cala di conseguenza. È inutile che mi venite a dire, eh, c'è il neghino di Araldino, sto cazzo è il neghino di Araldino, secondo me. In ogni caso, comunque, lo sicuramente rivedremo in giro di più, una volta che Droll sarà meno giocato, però per il momento non è una situazione che si può presentare a breve. Ecco, mettiamola così. Earthbound, qui soltanto per i supporti, for fun. Il mazzo, ragazzi, fa schifo purtroppo, non penso che ci sia un modo per rompere Earthbound, cioè neanche con altri 20 supporti in più probabilmente il mazzo sarebbe metacontender, quindi unlucky. Exorcister! L'unica nota positiva di Exorcister è che può tirare Shifter e fottersene, perché Exorcister campa di Shifter, praticamente. Boh, ragazzi, for fun, secondo me, il mazzo è indietro. Adesso è pure sparito Tier, quindi ha un matchup positivo in meno ancora. Quindi, ok. Poi abbiamo Fire King con Diablo Star, mazzo T1. A brevissimo esce Bonfire, falò, che è un sercino per i mostri Pyro, non fuoco, mi raccomando, Pyro! E quindi rende il mazzo ancora più consistente. Le powerplay arriveranno tra un po', c'è da dire questo. Cioè, comunque il mazzo al momento non fa schifo, è fortissimo, eh. È un ottimo mazzo. Però le vere giocate forti arriveranno tra un po' quando usciranno i supporti di Diablo Star. Fatto sta che comunque questo è il motivo per il quale, al momento, Drago Flamberga sta a 20€, quindi diciamo che non metterlo T1 sarebbe una follia. Flow Wanderers! Flow Wanderers ha un enorme problema al momento, lo vado a mettere come Rogue. Stesso problema di Drytron. Ha una counter per la carta più giocata del formato che è Droll, quindi è praticamente impossibile andare a definire Flander come un mazzo superiore a Rogue, secondo me. Successivamente, Runic Furhair con anche pacchettino sprite. Runic Furhair gioca letteralmente i blu, un jet, un red, un carrot e qualche starter giù di lì. Insomma, quello dovrebbe essere il pacchettino da giocare in Runic Furhair. È indubbiamente la versione di Runic più forte al momento, perché? Perché pesca banalmente sei. Folgo ti permette di andare a supportare la pescata di Fontana e quindi riesce a guadagnare risorse con una facilità imbarazzante, riciclando le stesse carte Runic, che poi andrà a ripescare per tirare interruzioni dalla mano. Insomma, Runic lo conoscete bene, ragazzi. Questo mazzo penso che lo conosciate bene, perché comunque è diverso tempo che gira. È veramente valido, estremamente valido. La versione migliore anche di sprite, perché per quanto se ne voglia dire, ce ne sono pochissimi di sprite in questo mazzo, però comunque è effettivamente la versione migliore. Che dobbiamo farci? A me è una versione che non piace minimamente. Non mi piace lo stile di gioco con i Runic, perché è troppo lento, si punta sul farmare risorse e vince perché rende esausto il tuo avversario. Cioè, letteralmente il tuo avversario finisce tutto quello che ha nel mazzo. Quindi tutte le giocate possibili. Quindi a un certo punto quitta la partita, concede. Quindi è uno stile di gioco che non mi piace, però comunque è oggettivamente lo stile di gioco migliore da affiancare a sprite. Poi abbiamo Gold Pride Punk, che è tranquillamente un rogue. Il mazzo potrebbe essere di più. Sono stati presentati tipo per me oggi, per voi ieri, dei supporti. Vedremo che cosa concluderà con i supporti. Al momento mazzo rogue interessante, niente di troppo esagerato. Akai. Sharwara ha fatto male, si è notato. E... boh ragazzi, mazzo crolla. Potenzialmente potrebbe ancora dire qualcosa. In realtà potrebbe avere la potenzialità da rogue, però non me la sento di metterlo rogue, ragazzi. Akai era forte per quelle giocate. Poteva fare un neghino, due in realtà, di mostri. Grazie appunto alla presenza di Sharwara, che lo vediva in mano molto spesso. Sharwara faceva da recovery, faceva l'interruzione. Con Sharwara 1 il mazzo ha perso veramente tanto. È l'hit più pesante che potesse arrivare. Quindi per il momento io lo metto for fun. Vediamo cosa si inventeranno i giocatori, anche se è dubito. Potranno inventarsi molto, ecco. Poi abbiamo hero, mazzo rogue, perché comunque può tranquillamente strappare delle vittorie e delle top. In realtà non troppo tranquillamente. Comunque perde la droll, comunque ha dei choke point fondamentali. Però il mazzo batte random, a volte altri mazzi, altri mazzi magari più forti. E quindi ci può stare. Ci può stare. Semplicemente è un mazzo rogue che ogni tanto spunta e rompe il culo a qualcuno e fa una top cut. Infernoble! La dipartita di solde ha massacrato questo mazzo, che per carità rimane giocabile. Però competitivamente parlando il mazzo perde veramente, veramente, veramente tanto. Anzi, secondo me, proprio troppo. Ma vabbè, vedremo. Poi qui c'è Joshua Smith. Perché c'è Joshua Smith? Perché mi riferisco al mazzo che lui ha utilizzato per vincere il YCS di Bologna. Quel mistone, bestial, cose strane, insomma. Sarebbe un mazzo decente. Gioca runic, gioca un pacchetto sprite, gioca un pacchetto bestial. Tutti e tre sono intoccati dalla banist. Boh, ragazzi, io lo vado a mettere come rogue. Perché? Perché comunque è un mazzo, detto in tutta onestà, che solo lui, che l'ha creato, sa giocare bene. E quindi non è emulabile da qualche altra persona il risultato che lui è riuscito a fare con quel mazzo. Cash. Secondo me Cash, ragazzi, è un'ottima opzione. Un po' più budget da giocare in questo periodo. E' un mazzo con un going second veramente molto forte. Comunque ha delle interruzioni molto 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 valide. Comunque tutti ti mettono un Fenrir a terra. Quindi con talenti puoi eventualmente riuscire a partire tramite un Fenrir dell'avversario. Che è una cosa da considerare. Ragazzi, secondo me Cash è un rogue interessante. Adesso che ha un unicorno a tre pure. Insomma, non è da dormirci su. Ecco, mettiamola così. Labyrinth deve avere ancora i supporti. Li avrà a febbraio, tipo. Quindi, boh, per il momento lo schiaffamome rogue barra t2. Rogue che t2 al momento perché non sta facendo chissà quante top cut. Però, comunque, il mazzo è valido. Assolutamente validissimo. Posso supporti. Potrebbe arrivare a livello dei t1. Bisogna vedere. Mannadium. Mannadium, ragazzi, t2. No, vabbè, scagliamo anche labyrinth a t2. Dai, se metto Mannadium t2. Deve stare pure labyrinth là. Mannadium t2. Boh, cioè, ragazzi, il mazzo è ok. Purtroppo ha quella enorme debolezza. Oddio, per troppo barra per fortuna. Dipenderà come la pensate voi. Effettivamente, se Mannadium avesse la possibilità di giocare sempre senza droll, sarebbe probabilmente uno dei mazzi più forti del formato. Anche perché si search alla counter, quindi pure giocare Dark Lord no more diventa impossibile. E niente, quindi, boh, mazzo forte, mazzo ok. Marinsess. Marinsess Rogue. Valido come mazzo. Una di trascendentale. Però, comunque, è un mazzo ok. Matmec. La situazione è veramente critica. Circolare e bannata. Tra l'altro, lasci circolare. Ho lasciato circolare. Ma perché? Ho lasciato circolare. Non ho cambiato dalla vecchia tier list. Vabbè, vedete la carta che rappresenta Matmec? È bannata. E vedete, era la carta che rappresentava Matmec. Per la prossima tier list. Mi sa che lo rimuovo proprio Matmec, ragazzi. Senza circolare è veramente pesante. È veramente difficile. È veramente... Secondo me è impossibile. Ma va bene. Mikanko! Boh. Rogue. Abdelec. Giocate simpatiche, ma niente di che. Poi, voglio dire, ha perso pure lui i soldi. Quindi, ok. Orkust. Ah, è tornata Arpa. È tornata Arpa. È tornata Arpa. È tornata Arpa. Ci sono delle versioni interessanti di Orkust al momento. Non sono male. Detto in tutta onestà. Sono valide. È più un engine che un archetipo vero e proprio. È un engine per mettere... Per mettere... Di gir su più crescendo. È un engine per andare a mettere counter più un mostro che entra e manda. Ragazzi, vado a mettere Orkust al momento come Rogue. È un engine forte. Perché parte random. Bisogna vedere che cosa farà nei prossimi periodi. Quello è indubbio. Non è così tanto forte quanto si pensa. Già si è incominciato ad abbassare un attimino l'hype per quanto riguarda Orkust. Vedremo comunque. Purely! Purely T2. Onesto. Il mazzo è forte. Gli hanno dato un tocchettino che doveva dare una limitazione al mazzo per quanto riguarda la consistenza. Ovvero Sleepy A2. Sleepy A2 è una cacata. Quindi va bene. Rimane un mazzo forte. Forse il migliore era i T2. No. No, no, no. Perché secondo me Runic Fulair è sopra. Vabbè, in ogni caso comunque 3T2 sicuramente. Poi abbiamo qua Fire King. Roba generica. In realtà si parla di Fire King Dogmatica. Fire King... Fire King Dogmatica principalmente. Ragazzi, le versioni più budget sicuramente andranno a guadagnarci dall'uscita di Moonfire. Però manca il perno. Manca il fatto che esiste Diablo Star e Fire King ha bisogno di Diablo Star. Quindi lo vado a mettere come Rogue. Per carità, con un Fire King da 50€, come dovrebbe essere il 50 special che deve ancora uscire. Potete sicuramente fare dei risultati a dei local, forse anche a dei regionali. Se vi va bene, siete in giornata anche ad un big event. Però non è una cosa comune, ecco. Non è una cosa tanto comune quanto i Fire King con Diablo Star Rogue. Poi abbiamo Pompieri, Pompierazzi Belli che è T1. Non ci ho messo la Diablo Star qui perché mi sembra una cosa troppo ripetitiva. Ecco, cioè Pompieri sta a Diablo Star come Diablo Star sta a Pompieri praticamente. Pompieri sta a Diablo Star come, che ne so, la Luna sta alla Terra. Quindi, buon, va a finire così. Ha un piccolettino però, ragazzi, un impulso a uno, non fa veramente niente. Ricca è difficile da valutare perché stanno uscendo i supporti San Avalon, ma i supporti San Avalon non escono adesso. Usciranno. Quindi in questo periodo di gennaio nel quale devono uscire i supporti ancora, è un mazzo che, secondo me, sguazza tra i forfan. Sì, la gente dice, io ho fixato la combo, poi vai a vedere, la combo muore da monointerruzione. Ed è una cosa grave. Poi i post-supporti, quando usciranno, il mazzo risalirà sicuramente perché la gente stava già incominciando a cattare via la roba San Avalon per... Sì, ho detto prima supporti San Avalon, certo, supporti ricca. Erano ricca. Boh, vabbè, in ogni caso, comunque, con i supporti che sono... Stanno in arri... Ah, no, a Roma. Che cazzo sto dicendo? Con i supporti a Roma, che sono in uscita, poi la gente stava incominciando già a tagliare via la parte San Avalon. Quindi diventerà più un ricca Roma che un ricca Roma San Avalon. Detto questo, comunque, il mazzo al momento è classificabile come forfan. Post-supporti lo rivaluteremo sicuramente. Poi, Runic generico, stan, cose del genere. Rogue non fa schifo e basta. Sala è osceno, secondo me, Sala, ragazzi. Non riesco a posizionarlo. È veramente osceno, secondo me. Lo vado a mettere forfan, ragazzi, sì. Per carità potete vincerci, però... Non è uno di quei mazzi scelti per i big event. Scareclaw forfan. Sky è difficile la piazza per the sky. Forfan. Velociroid con la trottola 2. È un mazzo che comunque, però, potrebbe morire da diversa roba. Non me la sento di mettere Velociroid come mazzo rogue. Quindi lo vado a mettere come forfan. E poi abbiamo una sfilza di sprite. Allora, partiamo da sprite furair. Ho visto delle liste che giocano tanti nomi sprite, pochi nomi furair e 17 nomi runic. Rogue. Alla fine la versione forte è veramente questa qua che gioca 6 nomi sprite in croce. Poi abbiamo Sprite Evil Twin, che non è male. Non è assolutamente male. Non lo posso mettere come T2, però è un ottimo rogue. Sprite runic. Stessa cosa. Sprite. Questo sarebbe Sprite Going Second. Stessa cosa. Tutte le versioni di sprite, eccetto per quanto riguarda l'engine di 6 carte che si gioca in runic furair, sono delle versioni rogue, secondo me. Svorsol. Rogue. Un mazzo che fa quello che deve fare. E basta. Tear. Allora. Sono morti Kelbeck e Agido. E va bene. Mi hanno messi a zero. Adesso Tier cambia ulteriormente. Io ho già montato una lista di Tier con gli Horus. Non so se voglio comprare gli Imsity, anche perché sono saliti veramente tanto. Fatto sta che comunque la lista è interessante. Il problema è che è estremamente l'ulopatia. Cioè, già prima con Kelbeck e Agido la lulopatia era qui. Adesso con sta roba che devi fare Imsity, effetto, scarto, non si sa per quale motivazione Beatrice stia ancora in giro, però devi comunque sperare di arrivare a due livelli 6i per avere un'interazione tu nell'avversario. Fai di tutto per dimettere una Todali. Fai rientrare gli Shizu per andare a mettere Spi. Secondo me è estremamente tirato, è troppo tirato. Non mi fa impazzire. Non è morto, eh, per carità, però ragazzi, già era lulopatico, adesso è ancora più lulopatico, perché comunque hai meno possibilità di millare la roba che ti serve. Quindi, boh, Rogue, mazzo martoriato, c'ha tre limitate, tre bannate, spaventosa come cosa. Poi abbiamo Traptrix, che secondo me può risalire, Rogue. Ci può stare, anche se ha un po' di difficoltà con la roba che sta qui, però ci può stare. E poi Vanquish, broghettino simpatico, nulla di troppo esagerato. Sì, non penso che ci possa essere qualche altra modifica in questa tier, onestamente. Siamo più o meno lì. Il formato è più o meno sempre quello, con qualche modifica importante, tipo Matmex sparito dalla faccia della terra, Infernoble sparito dalla faccia della terra, Kai sparito dalla faccia della terra. Per le vere modifiche dovremo aspettare il prossimo set di espansione, ovvero Phantom Nightmare. Con Phantom Nightmare incominciremo a vedere qualcos'altro in più. Il fatto sta che comunque finché Pompieri e Diablo star in giro sarà lì con Pompieri, difficilmente potremo vedere della gente, dei mazzi che potranno superare Pompieri. Serve un altro Ittino Pompieri, in modo da farlo riasestare a livello degli altri, e poi incominciremo a vedere una vagonata di mazzi che si riverseranno nelle tier più alte. Detto questo, se state giocando un mazzo che non è un mazzo da soldi, è un periodo buono comunque, perché per quanto ci possa essere in sta tier list un meta di T1, che so, 2T1, comunque c'è da considerare che il gap tra i T1 e i T2 non è tanto. Il gap tra T1 e i T1 è già più ampio, però comunque è abbastanza colmabile se il vostro mazzo può giocare un buon numero di HT, che vuol dire dalle 9 alle 15, secondo me. Forse anche 12-15, 12-18 sarebbe top. Detto questo, ragazzi, scrivetemi qua sotto che cosa ne pensate per quanto riguarda questa tier list, scrivetemi qua sotto i vostri pensieri per quanto riguarda i mazzi migliori di questo formato. Ovviamente non i T1 perché penso che siano oggettivi T1, bisogna vedere quello che sta un po' più sotto. Detto questo, noi ci vediamo venerdì con la decklist di Dogmatica Horus. Oioho! C'è ragazzi! C'è ragazzi! C'è ragazzi! Autore dei sorrisi